ciao a tutti oggi prepareremo la maionese il tempo di preparazione della ricetta è di due minuti circa gli ingredienti sono olio di semi di girasole uovo succo di limone aceto e sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame mettere l'uovo che deve essere a temperatura ambiente il succo di limone l'aceto e il sale chiudere con il coperchio ed azionare il bimbi per un minuto e 30 secondi a velocità 4 e sul coperchio verseremo l'olio a velocità a velocità Grazie a tutti. La maionese è pronta. Trasferire in un barattolo di vetro con chiusura ermetica. Maionese si conserva in frigo per tre giorni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.